Sono Maurizio Falchetti e lavoro dal 1978 nel settore del credito per l'ICBP, che è l'acronimo di Istituto Centrale Banche Popolari con sede dell'azienda a Milano. È una banca relativamente giovane, è stata fondata nel 1939 su iniziativa di sei banche, la Popolare Cremona, Intra, Lecco, Lodi, Luino Varese e Verona. Oggi è la capogruppo di alcune importanti società che si occupano prevalentemente di sistemi di pagamento, di monetica, di servizi di antiriciclaggio e segnalazioni di vigilanza, oltre che alla gestione dei fondi, security service e banca depositaria. E più recentemente con l'acquisizione di centro SIM di intermediazione immobiliare. Nel gruppo ICBP operano in totale 1846 persone, suddivise nelle cinque aziende nelle sedi di Milano, Cassino dei Pecchi, Roma, Anzola nell'Emilia in provincia di Mologna e San Giovanni al Natisone in provincia di Udine. Le società sono Oasi Diagram che occupa circa 101 lavoratori. Key Client, che è stata acquisita da Deutsche Bank nel 2008, opera nel settore delle carte prepagate e delle carte di debito. Occupa 206 lavoratori. Carta C è stata acquisita nel 2009 e occupa 328 lavoratori. Helpline, di recente costituzione, è nata dalla fusione di Seacall e di Helphon. Occupa 500 lavoratori. La capogruppo ICBP occupa 711 lavoratori nelle sedi di Milano, Bologna e Roma. Complessivamente siamo 1865 lavoratori, tutti con il contratto del credito. Principali azionisti della banca sono il gruppo Banco Popolare, il gruppo Credito Valtellinese, il gruppo Banco Popolare Emilia Romagna e i Crea Holding. La presidenza dell'istituto è retta da Giovanni Decensi del Credito Valtellinese. Una curiosità di questa società, sulla facciata della sede di Corso Europa, spicca un insegna al neon tra le più lunghe e voluminose al comune di Milano. 62,50 metri lineari per 75 metri quadrati superficie. Però in effetti ha corrisposto all'espansione che poi c'è stata. Se avevamo un insegna così eravamo in 200 dipendenti. A me sono l'insegna della Madonna e sono diventati milano. Le acquisizioni, le fusioni e gli accorpamenti in ICBP sono stati trattati nel piano industriale 2009-2012. Era stato sottolineato il problema che i passaggi societari avrebbero comportato degli esuberi di personale. L'incognita è stata sottoposta dai ICBP ai sindacati interni e si è giunti ad una soluzione condivisa attraverso l'apertura di un fondo di solidarietà per il personale. È stato stipulato il 3 febbraio dallo scorso anno ed ha riguardato complessivamente circa 170 persone. Un accordo rilevante è anzitutto perché ha messo al sicuro parecchie decine di lavoratori da eventuali ripercussioni che l'azienda avrebbe potuto prendere nei loro confronti. 118 persone sono entrate nel fondo esuberi, quindi in un prepensionamento programmato, mentre altre 52 persone hanno usufruito dall'incentivazione volontariamente. È stato un accordo molto sofferto. Sono stati ottenuti per chi entrava nel fondo di solidarietà, 15 mensilità per chi vi permaneva 60 mesi, quindi un fondo fatto con tutti i crismi, tant'è che si sono verificate in questo caso molte più richieste di quelle che l'azienda aveva preventivato. L'azienda preventivava di arrivare ad un numero massimo, oltre cui sarebbe scattata l'obbligatorietà, di 120 persone. I colleghi che hanno aderito a questo fondo sono stati 170. Un buon fondo che ha premiato il lavoro sia delle RSA interne sia dei nazionali che hanno presenziato alla firma di questo accordo. La Fabi si può dire che è presente in istituto dalla sua fondazione. È presente in tutte le sedi. Nella sede di Corso Sempione c'è il collega Romolo Givonetti, Corso Europa e Via Cavallotti, l'RSA è il sottoscritto, sono io. Sono anche coordinatore del gruppo insieme ai colleghi Karen Zanier di Help Line e Fabio Zanchettin di Cartasi. Arriviamo da società molto eterogenee, non omogenee tra loro. La Fabi è molto ben posizionata. In questa azienda il sindacato interno, pur dichiarandosi fuori dalle secche di mercato, evidenzia comunque delle problematiche da gestire. Anzitutto la problematica più importante con cui abbiamo a che fare riguarda l'integrazione del personale che riviene da altre aziende ed è confluito nella holding di CBP. Da istituto di categoria delle banche popolari, l'ICBP si è progressivamente trasformato in una banca a servizio del mondo del credito. Tant'è che la seconda curiosità su questa banca riguarda proprio il refrain pubblicitario che negli scorsi anni circolava sui mezzi di informazione. Diceva testualmente, ICBP, la banca che migliora le banche. Da parte del nostro Presidente è chiaro l'obiettivo di ricorrere per il futuro molto più all'utilizzo del sistema di pagamento elettronico. Le carte di credito, le carte di debito, le transazioni elettroniche che tolgono spazio al contante, visto come un ulteriore costo, un ulteriore aggravio di costi del sistema bancario, ma anche del sistema paese. In quanto ci sono dei costi collegati all'utilizzo di contanti che sono ben chiari, quali ad esempio il trasporto stesso dei valori, la sua contabilizzazione, la sua custodia, che attraverso i sistemi elettronici di pagamento verrebbero comunque a diminuire notevolmente rispetto all'attuale costo. Oltre al discorso dei pagamenti in nero che vengono fatti attraverso il denaro contante. Questo dovrebbe essere il futuro delle banche, anche perché in Italia c'è un gap notevole. Infine ricordo che anche nel 2011 ICBP sta proseguendo la strategia delle acquisizioni. All'orizzonte si profilano nuovi acquisti sul fronte dell'amministrazione titoli per posizionare l'azienda tra i principali player nazionali. Il sindacato e l'istituto centrale è pronto ad affrontare queste nuove situazioni ed a fornire una legittima collaborazione tanto ai colleghi quanto all'azienda. E' questa determinazione il risultato della tenacia che nei decenni ha caratterizzato l'azione della Fabi in ICBP. Grazie!